Buongiorno a tutti, intanto mi spiace non essere lì con voi ma ci tenevo a dare il mio contributo personalmente perché con AISL e la famiglia Maiori siamo partiti insieme in questo progetto importante sulla North Coach. La North Coach è una figura ispirata al mondo americano per la presa in carico delle persone con grave disabilità. Abbiamo portato insieme avanti questo master universitario proprio perché la formazione e quindi anche con un livello importante universitario di ore e di tirocini richiesti per crescere sia culturalmente ma che nella pratica e nella tecnica per imparare a gestire sia le persone che le famiglie a casa e consentire quindi il rientro di gravissime disabilità come le nostre tra cui purtroppo le persone con SLA per poter rendere loro una vita migliore nel loro contesto familiare e domiciliare. Quindi veramente un grazie sentito perché crediamo molto in questo progetto, nemo prima di tutto ma anche nell'ambito universitario di portarlo avanti, infatti l'abbiamo fatto per diversi anni insieme a voi e quindi un grazie sentito. Grazie Grazie Grazie